Via! Si comincia alla provetta al Paolo D'Esta con il primo pallone toccato! E' altissima di Sapienza, è anche furtosa perché non c'è fallo, fazzista da verticale, poi Brega! No, vai con il vantaggio, il diareggio! L'avevamo detto, Cristian Brega, quinto del campionato 9-15 1-0! Furtuosa la pressione altissima di Sapienza, Cristiano Brega, è un gol che sta di liberazione! Fazzini contro Tognoni, e non sbaglia Fazzini, pallone sotto l'incrocio, 2-0, secondo gol consecutivo per Fazzini, dopo quello con il dico mano! Grande regola di Tognoni, può andare in posizione regolare, Brega! E che gli vuoi dire a uno come Cristian Brega quando fa un gol così, che fa sesto in campionato, 3-0, partita finita! Assolutamente sì, un gol clamoroso di Brega! Aveva preso le misure prima, ci ho riprovato adesso! E' un gol ben...